Pronostico rispettato e impresa purtroppo non centrata. La Ternana supera con un netto 3-0 il Biceglie ha liberati e continua la marcia per il momento incontrastata verso la Serie B. Giornata da dimenticare per i nerazzurri che vanno sotto dopo pochi minuti e vengono puniti dalla doppietta dell'ex partipilo. Gara subito vivace in terra umbra e a partire bene è però proprio la squadra di Bucaro, squalificato per l'occasione. Passano appena 100 secondi, Sartore liberissimo al centro dell'aria, calcio al volo, tiro deviato da Swagger e Sfera che sbatte sulla traversa. L'occasione mancata dagli ospiti scuote i rossoverdi che all'ottavo trovano il vantaggio. Tiro cross dalla sinistra di Furlan e deviazione vincente di partipilo che sul filo del fuorigioco beffa russo. La Ternana da questo momento diventa padrona del match. Al dodicesimo un sempre reattivo Furlan prova la conclusione a giro ma la palla termina alta sopra la traversa. al diciottesimo preciso traversone di Mammarella ma colpo di testa da dimenticare di vantaggiato. Due minuti più tardi è Mammarella dalla mattonella prediletta a cercare il raddoppio ma il suo sinistro termina alto. Raddoppio che arriva comunque al minuto 39. Scambio Rajcevic, Proietti con quest'ultimo che si libera in aria e lascia partire un diagonale imprendibile per russo. Squadre a riposo sul punteggio di 2-0. Ad inizio ripresa gli Umbri trovano subito il punto che manda in archivio il match. Perfetto cross dalla sinistra di Furlan e colpo di testa vincente di partipilo che firma la doppietta dell'ex e il 3-0 per le fere. Il Biceglie mai in partita prova a farsi vedere in avanti al 52esimo con la potente punizione di Vitale. Iannarilli si distende e sventa la minaccia. Al 64esimo ancora Ternana pericolosa con il colpo di testa di vantaggiato. Russo respinge con i pugni. Al 78esimo invece sinistro da fuori di partipilo. La sfera termina non lontana dal palo. L'ultima emozione del match è la conclusione. Mancina dal limite di Palumbo. Russo si distende, devi in angolo. Finisce 3-0 per la Ternana che sale a quota 36 punti tenendo a debita distanza le dirette inseguitrici. Il Biceglie invece resta fermo a 10 punti in piena zona rossa e mercoledì affronterà nel recupero del partegno l'Avellino.